Senta, come possono fare i cittadini? Tanti ci chiedono come poter donare, quali sono i sistemi, quali sono i riferimenti, che indicazioni possiamo dare? Sì, i sistemi sono di versare nel contocollente del calcite, che è presso il sito, il nostro sito è il contocollente dell'Ubibanca e la casuale è una mascherina e naturalmente possono versare il calcite, con questo ricavato compra tutti questi strumenti per questo tipo di situazione. Come sta andando al centro oncologico Trasterito? Il centro oncologico ci stiamo trasferendo ma sicuramente lunedì ce la faremo, grazie a tutti, agli operatori del centro oncologico, ai tecnici e tutto quanto, ma ce la faremo, lunedì mattina siamo pronti.